buongiorno a tutti oggi mi trovo a gentilino e vi sto per mostrare questo quattro mezzo locali allora mi trovo al primo piano quindi di uno stabile di recente costruzione la superficie interna di questo appartamento è di circa 160 metri quadrati allora entrando sulla destra abbiamo il primo bagno vc ospiti con lavabo specchiera e vc proseguendo abbiamo un bel soggiorno di circa 45 metri quadrati come pavimentazione abbiamo un parquet mentre nei bagni appunto abbiamo le piastrelle allora sia dal soggiorno che dalla cucina c'è l'accesso riuscita praticamente sul giardino di circa 300 metri quadrati riscaldamento a pavimento tramite serpentine e le tapparelle sono elettriche l'inquilina ha inserito anche le zanzariere da questa parte abbiamo una parte pavimentata e il giardino che circonda l'intero appartamento giardino appunto dove la manutenzione è propria dell'inquilino mentre le siepi ovviamente sono vengono vengono tagliate dal giardiniere condominiale allora da questa parte rientriamo nell'appartamento sulla sinistra si sviluppa la cucina da questa parte cucina abitabile composta ovviamente da da tutto quindi da questa parte abbiamo il piano cottura in vetro ceramica lavastoviglie forno ad aracalla ventilata e da questa parte abbiamo frigorifero e sotto congelatore a disposizione dell'appartamento c'è un'ampia cantina di circa 12 metri quadrati e due parcheggi in auto rimessa allora partiamo dalla prima camera la camera matrimoniale padronale dove sulla sinistra si apre questo bellissima parete con dei comodi armadia muro sulla destra abbiamo il bagno bagno molto ampio di circa 8 metri quadrati con grande specchiera dc bidet finestra la vasca e dietro la porta abbiamo anche la doccia bagno appunto rivestito con questo mosaico beige e da questa parte abbiamo la camera matrimoniale davvero molto spaziosa molto ampia anch'essa con l'uscita sul giardino praticamente tutte le camere hanno l'uscita sulla parte esterna quindi sul giardino di 300 metri quadrati sulla destra dal soggiorno abbiamo le due camere singole camere molto generose la prima camera dove attualmente appunto sono stati inseriti dei comodi armadi camera di circa 13 metri quadrati sulla destra abbiamo la seconda camera singola anch'essa appunto come vi dicevo con una bella porta finestra con l'accesso sul giardino camera molto ampia e da qui abbiamo il armadio muro dove all'interno è stata inserita la colonna lava asciuga quindi asciugatrice e sotto lavatrice e il bagno che serve le due camere singole quindi bagno con doccia specchiera lavabo e da questa parte abbiamo bide e vc allora nell'appartamento sono ammessi animali e nello stabile c'è una zona spa molto grande con piscina sauna e bagno tutto bene da gentilino è tutto se volete visionare questo quattro e mezzo locali a gentilino contattateci ti affitto